ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi come potete leggere dal titolo sarà un video in cui vi faccio vedere cosa ho acquistato allora ho fatto la spesa da conad alla crai che nel mio paese si chiama lg lo giudice supermercati lo giudice purtroppo non ho acquistato chissà cosa però avevo il piacere di farvi vedere cosa ho acquistato per prima cosa vi faccio vedere questa che la più ingombrante che l'acqua di mineralizzata che io utilizzo per le piante carnivore soprattutto anche per il ferro da stiro e la scopa a vapore però più che altro la utilizzo per le piante carnivore ed è costata un euro e 49 e sono cinque litri ok adesso la tolgo e continuiamo a vedere cosa ho acquistato ok partiamo da questo sacchetto qui che del supermercato lo giudice e ho preso questo finocchio qui che io lo do a macchiolina il mio coniglio ed è costato 80 centesimi poi sempre del reparto tutto 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 ho preso questo che è il broccoletto siciliano e l'ho pagato sempre 80 centesimi molto molto fresco questo poi ho preso una bottiglia di spray vi faccio vedere l'ho pagata un euro e 29 quella da un litro e mezzo questa qui e poi ho preso per ultimo ma non per importanza le dixan discs non so come si dice a 2 euro e 99 che erano il sconto e all'interno ci sono 13 e 13 discs e sono quelle quelle classiche queste non l'ho mai viste sinceramente come sono vi faccio vedere anche voi per la prima volta lo apro sono molto grandi sono queste vi farò sapere poi nel video promosso e bocciati se mi sono trovata bene oppure no sono queste poi andiamo avanti e apriamo questo sacchettino qua del tonat e ho acquistato una novità che non ho mai preso ed è questo aspettate che azzurra quello per i colori e per i capi colorati sinceramente non l'ho mai mai visto sono 32 misurini 32 lavaggi ma noi cioè queste cose a me fanno ridere 32 lavaggi 40 lavaggi cioè a me non durano poi così tanto sinceramente è un litro e 600 quasi eccolo qua e per attivare i colori che sono magari un po sbiaditi c'è scritto formula formula proteggi colore lavatrice per capi colorati sembra molto 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 interessante io non l'ho mai acquistato e mi ha fatto mi ha fatto come si dice curiosità e questo è costato 3 e 99 è quello con il tappo rosso mi raccomando perché ce n'era un altro tipo ma non era disponibile poi ho preso questi che sono il ricordo della mia infanzia e kinder brioche ti mangiavo ogni mattina quando ero piccola e sono costati 2 99 questi sono i classici quelli al latte poi ci sono anche quelli pane cioc oppure anche quelli cioccolato latte mi sembra questi sono da 10 lievitato naturalmente come vi faccio vedere il retro a ci sono anche quelli integrali ho preso quelli normali stavolta l'altra volta ho preso quelli integrali non è che mi siano piaciuti poi così tanto ok poi andiamo avanti ho preso ok vi faccio vedere questi che devo andare a mettere in congelatore che mi ero già dimenticato dimenticato ho preso i gelati raffaello non l'avevo mai visti appena l'ho visto detto che dovete essere miei assolutamente perché adoro il cocco allora il cocco in sé non è che mi faccia impazzire il gusto però tutto quello che ha sapore di cocco mi fa impazzire vi dico subito quanto sono costati 3 e 99 ce ne sono all'interno 4 vedete sono 4 e vi farò sapere assolutamente come sono di gusto io spero che siano come il raffaello perché mi fa impazzire uno dei cioccolati più buoni che c'è adesso stacco un attimo vado a metterli in congelatore torno ok visto che le ho aperti vi faccio vedere anche la grandezza cioè sono minuscoli vi dico la verità all'interno c'è proprio piccoli 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 sì spero che ne valga la pena nel gusto ma come grandezza sono veramente minuscoli adesso vado a posarli e ci rivediamo ok eccomi tornata andiamo avanti ho preso anche questo qui con ad bucata a mano azione rapida allora questo qua mi serve perché a volte lavo a mano i cappelli che il mio fidanzato utilizza per lavorare perché lavatrice e stringono visto che sono di lana e questo è costato un euro e 79 speriamo ne valga la pena sembra molto sembra molto efficace ma vediamo il profumo profumo veramente molto carino vi dico la verità vi farò sapere come mi trovo ovviamente nei promossi e bocciati quando lo finirò ok andiamo avanti ho preso questo il ride quello 30 notti liquido per zanzare normale zanzare tigre perché a casa mia c'è l'infestazione delle zanzare non so nemmeno da dove arrivino tutte queste zanzare forse perché sto in zone di campagna diciamo ma veramente sono esagerate qui esagerate ma non le zanzare normali sono esagerate proprio le zanzare tigre ce ne sono tantissime tantissime veramente tante e devo dire la verità da quando è che ho preso questo l'altra volta le zanzare sono cioè sparite veramente è costato 3 euro e 29 la ricarica però si sa che questi costano tantissimo questi soprattutto questi di marca però vale la pena sì perché veramente le zanzare non ci sono più ok andiamo avanti ho preso questo che è costato 1,55 io lo prendo sempre perché mi piace un sacco il gusto che porta di aio e prezzemolo l'ho provato a fare anche in casa si è venuto buono ma sinceramente non aveva lo stesso sapore a me piace tantissimo quindi lo prendo sempre ci sono 8 cubi e si mi durano tantissimo veramente però vi metto qui così potete leggere tutto quello che c'è dietro e niente a me piace tanto e lo compro quasi ogni volta che vado al comment poi andiamo avanti ci sono le ultime due cose sì ho preso due lattine di barn sono costate 99 centesimi ciascuna eccole qua sono quelle normali sono per ora non bevo gli energy drink non mi piacciono per niente e l'ultima cosa che ho comprato costata 2,49 è questo che è un additivo smacchiante per capi bianchi ovviamente vi farò sapere anche nei promossi e bocciati come mi ci trovo io di solito compro sempre quello nelle come si chiamano nelle barattolini ma ho notato che questo è pesa di più e conviene di più come prezzo perché quello costa più o meno lo stesso prezzo anche di più anche quello stesso della marca del conad vi metto mentre il dietro così se vi interessa potete zoomare ecco qua additivo smacchiatore capi bianchi elimina le macchie difficili è già efficace da 40 gradi leggerete ecco qua questo è usato a mano e anche lavatrice vi dicevo che io utilizzo quello nei barattoli però ho deciso di prendere questo per via del peso perché quello mi sembra che 500 grammi costa di più questo 600 grammi e costa meno speriamo che abbia lo stesso cioè lo stesso efficacia voglio dire e niente questa era tutta la mia spesa ah no ho sbagliato c'è un'altra cosa scusatemi ho preso anche aspettate che vi cerco il prezzo ok 2 euro e 29 ho preso questo guanciale a cubetti perché voglio fare la carbonara per oraccio io non anche questa comunque io spero che la mia spesa vi sia piaciuta spero che questo video anche vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia satude e noi ci vediamo al prossimo video ciao